AVENGERS UNITI Salve le gentili campi e bentornati suoooooooooo Ehm, che sta succedendo qui? E sta cacchio sta succedendo Ma oh! Ma che sei diventato qua? Una camera per maghi da quattro soldi! Lo sappiamo tutti che la c'è un filo che tiene alzato questo disco ufo Io lo so, se potessi metterci la mia nina, crollerebbe tutta l'impalcatura Per fortuna che ci sono qua io Black Widow L'unica che ha come potere le pistole C'è che cosa servono la inumani? Io ho solo le mie pistole e mi bastano quelle Porca cazzozza però Con quale fucile? Questo è un potere Questo è un potere ragazzi Il potere dell'arma invisibile Ti prego dammelo Mamma mia Tra gente che non si sente in doppiaggio e tra gente con fucili invisibili Questo gioco è veramente Pazzesco Per il resto iron scritto Tonino E abbiamo l'occasione perfetta per farlo L'esperienza AIM a Manhattan Il lancio mediatico dei nuovi adattoidi di Tarleton Andiamo a griffare Ci sta Ci sta Monica Si è già Si è già Oh Voglio vedere Voglio assistere Voglio assistere No bellissima sta cosa Vorrebbe Dopo Bruzzerellino Ehi 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 Allora sei pronto a torturare? Non abbastanza da distrarmi da ciò che mi attende di sotto Credo Credo di essere pronto Devo esserlo Come? E da una parte Se vuoi parlare Chiamami via radio Grazie Nat Devo solo Riflettere un po' su alcune cose Non vuole picchiare Le donne Però quella non è una donna è un mostro Quindi non si pone il problema Mi raccomando fai la guardia Brava Continua così Mentre io adesso devo andare Parlare 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 Tra virgolette Non farti manipolare Non la conosci Ci sono migliaia di moniche Nani? Cosa? Usa dei cloni Cosa? Senti tizio Senti tizio Apri Sì agente Romanov Bene Apri la camera stagna E poi non riaprirla Per nessun altro A parte il dottor Banner Intesi? Sì signore Avvio il protocollo di bypass della camera stagna Grazie tizio sconosciuto Che non si vedrà mai più Devo entrare Sono un'esperta di torture Ehi Kamala Eccola qui Eccola qui Bene Ci fanno vedere sta interrogazione Che è strabello In Bruxelles ce la faranno? Sarà meglio Quando rovineremo la festa a Tarleton Si darà di fare Poi dai sarà una interrogazione tranquilla Cosa vuoi vedere? Farà tirare un tavolo Un pugno Quanti nomi migliori? Ci serve la posizione di quel laboratorio Centinaia di inumani sono in pericolo Quindi Tiny Dancer eh? Secondo me avresti scelto Rocketman Ti prego Ah l'ha capito lei La mia candle in the wind Inizia lo spettacolo Aspetta ma Il doppiaggio e i sottotitoli Sono tutti sfasati Vabbè Non parlerò mai Fammi indovinare Hai in mente una grande rivelazione Per la presentazione degli adattoidi Il ritorno trionfale degli Avengers Prigionia e Tortura Cosa? È così che l'AIM vuole migliorare il mondo Prego È come se fosse il suo ufficio Vedi Molte malattie Se non fosse stato per le cavie Sarebbero ancora letali Gli inumani non sono malati Monica Tu stai solo rubando i loro poteri Per i tuoi robottini Diglielo, diglielo Robot che presentano un'IA complessa Capaci di stabilire quando utilizzare i poteri Per renderli più efficaci Fai l'alpha Bruce Con pochissime vite umane Dov'è il laboratorio? Puoi ricreare il Terrigion certo Ma sai che le conseguenze sarebbero terribili Eri presente alle idee Sai che se lo rifacessimo Non metteremo in pericolo gli inumani Metteremo in pericolo tutti Da quanto ne so Lei dei è stata colpa vostra Aia Aia Maledizione Servi un tavolo più robusto Stiamo attenti Alcune cose non sono cambiate Guardala Guardala Tiragli il tavolo Porca vacca Si è calmato Ragazzi Sa domare It's a true man Vedete? Un uomo sa stare tranquillo Anche nelle situazioni bollenti Per te è sempre tutto un esperimento Per te è sempre tutto un esperimento vero? E' così Una faccia da sberle però ce l'ha Tarleton E gli inumani Io So sad Guarda cosa gli hai fatto Guarda cosa gli hai fatto Sei un mostro Pure lui che è meno mostrato Se taccia il pianeta Non troverai mai il laboratorio Lanceremo gli adattoidi Bruce Per salvare il mondo Corrono sacrifici Aia Rosica tanto Bruce la trova Vado dentro Devo trovare il laboratorio Però è stato proprio inutile sto discorso Cioè non abbiamo cavato un ragno dal buco L'ultima volta hai fatto la nabba Dai Oh ok Siamo Kamala Sono arrivati l'IM ad attaccarci Oh Che stanno a fa? Porca cazzo Wow Assurdo Seguiamo Iron Man raga Ci stanno tracciando Ci stanno tracciando Jarvis stacca tutto Ho ottenuto un pugno da Iron Man per il mandato più veloce Tieni premuto Y Oh 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 No problemo ci penso io Bing boing Super calcio Concentrati sui robot incuriosi Ok Ok Ci penso io Nuovo problema Nuovo problema Ah fuori dalle palle E ora manca te Vuoi un sacco di schiafi Te li tirò tutti Tutti Camara grossa cattiva Ho spezzato più robot E gambine Qui dentro Ok Oh oh Guarda questi Vogliono i miei pugni poderosi Vogliono il mio pugnetto Tony ci serve su un porto aereo Vieni qui presto Arrivo subito Jarvis attiva i cannoli Ma ci hanno rubato di qui già anche loro Ok Raggiungi la sella di controllo ragazza Stendi chiunque si avvicini a quei nuclei energetici Il mio lavoro Ok Quindi adesso posso andare per ti qua Probabilmente sì 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 Ok Anche io ai miei metodi Oh cavolo Oh 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 Assurda sta missione raga Per favore fate in fretta Sta provando Jarvis Non so se ce la faccio Oh cacchio Oh cacchio che sta succedendo Assurdo Guarda stanno griffando tutto cattivissimi Jarvis Nooo Oh no Oh No problem no problem Jarvis 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 Non si tocca il mio computer preferito Sennò come faccio giocare il Age of Fire Non si tocca il mio Age Avevo i miei salvataggi lì dentro Avete tolto i salvataggi di Age Dovinate chi non Age era domani Ok Ok Bene Cominci a capire come funzionano i nostri scambi Kamala Bene bene Solo che ho un po' di problemi Potete non distrarmi due secondi? E qua ci sono veramente degli strani robot stupidi A scemo A scemi A cretesi Jarvis Sei ancora Jarvis Tu No Jarvis Mi piace Jarvis purtroppo non c'è più Kamala Nooo I miei salvataggi Tarleton Tartanello Schifosello Ragazzi Ah Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Eh con piacere Non gliene frega niente il tuo cadavere Non fa di venir voglia Ok Ok No grazie Perché non prendere Monica e andartene? Perché è tutto questo? Esatto Perché vuole porre fine Balle Oh Oh L'hanno sempre fatto Cioè hanno salvato cento volte miliardi di beat per una volta che failano Oh Il mondo sa per ricordare chi sono davvero un Avengers Ai porra cazzozza C'è lui che vuole far casino Cento per cento Secondo me è stato un po' preso in giro alle scuole E ora si vuole vendicare nel modo sbagliato però Lo chiamano testa grossa Testa grossa Secondo me è successo così Ehi Prendere in giro è sempre sbagliato però Veramente lui se lo merita Si è diventato così cattivo Oh Bene Oh L'abbiamo fatto tornare No Mi serve sul ponte subito Rapaccini Rapaccioni Quella rapace corbata No dai E mo E mo Oh no Oh no C'è c'ha dei punti questo gioco dove è assurdo Siamo in diretta dall'esperienza Ion Dove stiamo assistendo al ritorno degli Avengers Ma Sembra che attacchino la città Oh no 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 Riprendi Riprendi Martello di Thor È una coincidenza che questo attacco si verifichi il giorno in cui la YM deve svelare il nuovo programma di attacchi di Avete visto? Non voltiamo le spalle Ora sono Thor Vero? Vi avverto Non sono affatto di buon umore Sono un po' incacchiato Avete fatto rapare Il figlio di Odino Odino è con noi Odino è con noi Odino è con noi Odino è con noi Odino fa il casino Odino Tira fuori il martellozzo Il isolozzo Si Guarda quanto danno fa Fa un troppo danno Thor fa troppo danno Fa troppo danno Thor Il vero piacere non vedi Quanto forte Quanto forte Aspetta fammi entrare qui Fammi questa qui Fammi entrare subito Fammi entrar varya niente Più Il falso dio Ho Spesso I poteri non sono una cosa che puoi rinunciare Dove ti nascondi, dottore? E vedi affrontarmi Sì, ha paura Sì, bella scusa Bella scusa Si nasconde dietro dei robot e li controlla con la realtà virtuale Mi fa pena Mi fa pena Mi fa pena Mi fa pena Spang, spang, spang Eh, lo vuoi il martellozzo? Lo vuoi Ehi là Bulky, bulky Bulky, bulky, bravo Bulky, bulky Calma ora Come hai i vecchi tempi Come i vecchi tempi Ma scusa E' un rapporto Come vi ho detto Wilky e Thor Un po' quel rapporto Ecco Un po' difficile Un po' strano Sono veri bros Sono veri bros Ho un'ultima carta da giocare No ma si sta rigenerando È anti Stark Molto originale Vuoi anche rubarmi l'acconciatura? Santo cielo Va bene Aspetta, aspetta, aspetta Io ho il potere assurdo Ho un potere assurdo Avevo il potere di entrare Kamala, Tony Non c'è abbastanza energia Per riavviare i motori Non abbiamo più tempo Reggetevi forte No, no Non di nuovo, raga Non possiamo crollare Ehi, dio del tuono Fai la tua magia Resto dietro di me Vai, 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 vai Thor Thor Riattivale Oh Mi stiamo scattando Sta funzionando Abbiamo anche un po' bucato la loro torre Ci godo Ci godo Ci stava Allora ci stava Ma siete completamente fuori di testa Ah Il figlio al prodigo è tornato Avete quasi distrutto tutta Manhattan Aspetta, Santarellino Mentre il mondo andava a rotoli Tu dov'eri? A fare pace con i miei fallimenti Non ad aggiungerne altri D'accordo, d'accordo Facciamo un Bel respiro Parla a lui Parla a lui Volevamo fermare l'esperienza a I.M. Mostrare al mondo i piani di Tarton Questi suoi adattoidi Loro Ottengono i poteri Torturando gli inumani catturati Li espongono a dosi quasi letali Di terrigine scuro E questa è solo la prima fase Il caro Giorgi si prepara per una guerra Caro Giorgi Quel che è peggio è Che Kamala è riuscita A trovare delle prove Su ciò che è successo a Steve Ciao Aspetta, chi era Steve? Un eroe dovrà pur iniziare, no? Ah sì, cosa? Capitano America Tu ti ricordi di me? Sì Mostrami questo video Guarda Thor, guarda Thor Arrabbiati Thor Hai finito? Ho risolto la cifratura Quindi c'è altro Oh nice Quindi abbiamo più filmati Con VLC Ma allora No 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 No, no, no Cap, che stai facendo? No, no, no Che stai facendo? Smettila No Aspetta No 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 È stato Capitano America Ha distrutto il reattore Avrà avuto un motivo Perché? Per quale motivo? Centinaia di persone sono state infettate Altri sono morti Cerca di calmarti Vedi di assumerti le tue responsabilità, Tony Ecco il Bruce che conosco Forza, sentiamo che cos'hai da dire Non è il momento Invece Sinat Sai ad Acre Dorati che aspettava di farlo, vero? Vero? Non rosicate È colpa nostra Di tutti noi Però c'è, non l'avrà fatto a caso Quello che capisco è che credi davvero Alle cazzate che hai detto all'udienza Io credo che siamo pericolosi Pensi che il mondo sarebbe meglio senza di noi? Certo Me ne vado Non siate cambiati affatto Guarda Non può essere guarita Non può essere curata Ho fatto degli esperimenti Ho controllato il suo DNA Una, due, mille volte Tu e io abbiamo creato La perfetta Malattia No, no Io faccio il mio lavoro Io faccio scelte difficili Zitto Io sto dalla parte Di chi mi ha reso quello che sono Io ti avverto Oh no Oh no Faccio arrabbiare No, 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 no Raga Non litigate Uggire da te stesso A quello che sei Forse è per questo Che Monica ti ha usato No, no, no Aia Sono proprio d'accordo con te Questi Quel banner è un codaggio No, no, no No, no, no Raga, no Raga Stavolta stanno fuori Ragazzina No Adesso Stai invecchiando? Oi, 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 oi L'Ult Buster Non ci credo E vabbè adesso Adesso siamo a Kamala Da sola Ma dai Game over Oh no l'unica Avenger rimasta C'è Jarvis Jarvis Immagino tu possa tenere in volo la nave Per un po' di tempo Sì E mo? E mo? E mo? La nave è mezza distrutta Tutti i soldati sono spariti Dobbiamo capire di più Ma allora devo andare a Capitano America Perché ha fatto quelle cose? Devo andare per di qua Devo guardare il filmato Devo capirci di più Magari è stato taroccato il filmato Ma non credo Ma certo signorina Può accedervi Nella stanza di osservazione Ehm Il vero nemico è l'AIM Vorrei che Bruce e Tony potessero capire Oh Ehm Senza offesa Jarvis Ma vorrei che ci fosse un'altra Persona Oh Su sed Nessuna offesa Signorina Ken Ah Va bene è qua dentro che dovevamo andare giusto? Vediamo un po' Filmato dell'interrogatorio Dai che Kamala ci salva tutti Fammi indovinare Ha in mente una grande rivelazione per la presentazione degli adattoidi Forza Monica dammi un indizio Setaccia il pianeta Non troverai mai il laboratorio Lanceremo gli adattoidi Bruce Per salvare il mondo occorrono sacrifici Il pianeta? Setaccia il pianeta Vorrei solo parlare con mio padre Chiamo Yusuf Khan No 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 Jarvis Non intendevo Pronto Beta sei tu? No Papà Kamala se mi senti Sappi che mi manchi Di qualcosa Papà Non sono arrabbiato Voglio solo che torni a casa Mi dispiace Non dovevo dirti di nascondere i tuoi poteri Quindi lo sapeva Sarai spaventata E forse insicura Però la cosa più importante È che tu rimanga sempre fedele a te stessa Ti voglio bene È lui un vero eroe Che momento duro per gli Avengers questo boys Dai Devi riuscirci Devi capirlo Devi capirlo Io ho già una teoria Lei ha detto Setaccia il pianeta Forse non è su un pianeta Setaccia il pianeta Non troverai mai il laboratorio Vedi Setaccia il pianeta Non troverai mai il laboratorio Vedi Il pianeta Lancia il ramo Lancia il pianeta Non troverai Setaccia il pianeta Vedi Setaccia il pianeta Sì ma certo Il satellite Il satellite Vedi Lei aveva visto il satellite Vi ricordate C'era un satellite nello spazio Avengers Se ci siete Forse ho trovato un indizio Oh non c'è nessuno Dai Parla più forte Volevo incolpare la I.M. per ciò che mi è successo alle idee E non vedevo altro Ma K.A.P. avrà avuto le sue ragioni Per fare quello che ha fatto Io Io lo so Stanno combattendo La gente La gente crede Negli Avengers Non per via dei vostri poteri incredibili Ma Perché non importa Quanto le cose si mettano male Non importa quanto siate in disaccordo Voi siete sempre uniti Abbiamo detto uniti Non lo capite Le vostre differenze sono il potere più grande Ero solo Una stramba ragazzina del Jersey senza amici Ma voi mi avete visto per ciò che sono davvero Mi avete accettata C'è ancora qualcuno che vuole fare del male al mondo ma Noi possiamo fermarlo Il bene non è parte di te È qualcosa che fai Premio Nobel per la pace Subito Ehi là Ehi là Oh oh L'ha commosso L'ha commosso L'ha commosso Boys Scusami Non avrei dovuto dire Ho capito Altitudine, occhio secchi Senti Non sono bravo Mi dispiace Quindi Anche a me Bene Sì Allora Hai trovato un indizio Ascoltavate Ascoltate Setaccia il pianeta Non troverai mai il laboratorio Ok Il laboratorio Non è sul pianeta Non riesco a saperti Ok Quando mi hanno catturato Monica e Tarleton hanno litigato Tarleton è uscito dalla stanza E Monica ha visualizzato le coordinate di un satellite chiamato Ambrosia Vedi? Ambrosia Lo conosci? Era un progetto di ricerca biomedica dello S.H.I.E.L.D. L'A.M. deve averne preso il controllo Sarebbe un buon posto per nascondere le prove degli esperimenti sugli inumani, no? Se volessi studiare gli inumani a livello cellulare per farlo L'assenza di gravità sarebbe perfetta Bel lavoro Hai capito Guarda la nostra piccola genietta Quindi ora che si fa ragazzi? Si va nello spazio Ci serve solo un modo per arrivarci Come si fa? Il progetto Starboost signore Se ricordo bene L'ha abbandonato perché non riusciva a generare abbastanza accelerazione con il Sì sì Non c'è bisogno di annoiare tutti quei dettagli È stato prima che potessi accedere al signor rimpicciolitore Jarvis Chiama Pim È l'unico che può aiutarci Dobbiamo trovare un modo per arrivare al laboratorio spaziale Ok Un'anima per un'anima sempre Niente fa gratis Nessuno fa gratis Noi abbiamo del lavoro da fare Posso farci entrare a Meridian Bene Siamo tutti coinvolti no? Non c'è tempo da perdere Bene si va tutti Più potenza di fuoco Più potenza di fuoco Mentre ero infiltrata nell'IM Non ho mai avuto il permesso di vedere Meridian Beh Nat Stai per avere la tua occasione Dai che bello Stai inviando le coordinate dell'ingresso della stazione Hyper Circuit Quindi adesso è una specie di missione secondaria per recuperare dei cosi Così Pim ci aiuta Va bene Noi saremo sempre la nostra Kamala Snella Khan E niente si va e si spacca tutto Ma quante basi di ricerca super segrete ha l'IM? 8000 veramente Beh dai ci sta Ci sta allora Ci sta andarla a griffare Si vola Si va Guarda là Vedi usavano treni Anche è intelligente Ma le sue particelle Pim sono a dir poco instabili Se riuscirà a farle funzionare potrebbe risolvere il problema Quindi speriamo in un miracolo Lo sapete che vi sento vero? Oh merda Nat L'abbiamo rifatto Cambia i canali Ok va bene A parte le solite boiate Per cui ci siamo riconosciuti Adesso io ho tanta voglia di pestare tutti Finire questa missione E in questo modo avere le possibilità Di vendicare gli Avengers una volta per tutte Perché sono veramente arrabbiato Unica cosa è Capitano America Cavolo Sembra veramente che abbia fatto la bugliata del secolo Però mi sa che è costretto al 100% Secondo me sarebbe successo qualcosa di molto peggio Se non avesse fatto così Ma quindi potrebbe Può darsi che sia ancora vivo Capitano America Non è ancora detto al 100% Io c'ho il sospetto Che ancora vivo Me lo sento Io credo che adesso Distruggo la fonte di energia E non cago troppo I nemici Come ho sempre fatto Perché sennò ci mettiamo un'ora Me ne spideranno Come ho detto queste sezioni Tanto queste basi si assomigliano tutte Sono tutte uguali Quindi andiamo qua Eccolo qualcosa di energia Ho spietto tutto Non c'era nessuno A posto Bene Come perché Cosa ho fatto di male Firewall Oh dai Oh sporca zozza Ah dobbiamo prendere veramente un treno Ok ok Allora dai cerchiamo di Uccidere tutti i nemici Che non ho avuto il tempo di uccidere prima A sta rompere Giro giro tondo Cascano tutti Tutti giù per terra Cacchio Mi ha arrabbiato Mi stronghi 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 Bene Bene Allora abbiamo fatto Adattogeni schifosi Datemi una mano Bene Il treno è pronto Ma l'intera struttura è in allerta Il treno Dove è il treno? Tutti a bordo Sì Che bello Ok è qua dentro che devo andare Eccolo qua il treno Let's go Dai ragazzi venite Accesso di sicurezza confermato Oh Ma dove sono gli altri? Velova Uno dei miei vecchi aliens Ok Che bello Ci sono delle unità IM vicino al formicaio Ci serve quel campione di particelle Potremmo essere a corto di tempo Non ancora Ci siamo quasi Prendiamo quello per cui siamo venuti Ma Ma che stiamo a fa' qua? Adesso arriveranno dei nemici Scommettiamo Che si apre una porta No non credo Questo è solamente per un caricamento Ok Siamo già arrivati Easy Avete visto dove siamo andati? Vabbè Però assurdo ragazzi Questo gioco è diventato assurdo È diventato proprio assurdo No ma come siete dolci Ah Maledizione Avengers abbiamo un problema Sembra che l'IM abbia tracciato il mio hacking nei loro sistemi Ricevo rapporti d'allerta dal perimetro del formicaio Trovate quel campione di particelle e tornate qui al più presto Faccio il 100% più veloce che posso Signor piripiromane Aspetta Credo di avere un modo per riportarvi qui C'è un baule con dell'equipaggiamento nelle vicinanze Vedremo Sentite Non rompete le scatole Dobbiamo entrare lì dentro raga Ok vi mando Ora va Uno dei miei agenti Teletrasporterà voi E il campione di particelle qui al formicaio Dai Ho poca vita Sarà interessante Bene Vi prego sbrigatevi Prima che sia tardi Mamma mia basta mettermi ansia C'ho un'ansia estrema Ok Ok Sì Sbomb Devo prendere Devo prendere sto coso No non posso Non posso C'è troppa gente Tony spacca Tony spacca Ricordavo un po' diversa Questo deve andare fuori dalle balle Ok Ok Mentre gli altri sono occupati Akera No Non mi lasciano Non mi lasciano pezzi di erba Dai 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 No Ok Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta No dove devo andare Dovrebbe essere lì Lì dove Parla italiano Dove sono le particelle Pym Allora Dovevo andare là mi sa Qua c'è gente che ha bisogno d'aiuto Ci penso io C'è una gente qua ragazzi Dobbiamo salvare altri Nabini che ci daranno una mano Quindi wait Che gli libero Libero subito Don't worry child Perfetto Perfetto Dove sono volato Ora sei al sicuro Ok Abbiamo salvato un tizio Ora possiamo tornare indietro E parlare con la gente per aprire il portale Tipo un Teo Eccolo qua Teo Portaci al sicuro Teo Riportaci al formicaio Riportaci al formicaio Siete richiesti in prima linea Tenetevi forte Potrebbe essere un via Yes 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 Eccoci qui Mamma mia Mamma mia Ora cosa è successo Qual casino Ragazzi Ragazzi Andate a guadagnare tempo Mamma mia Cosa è successo Il formicaio Non è più un formicaio Un grattacielo Cielo aperto Oh santo cielo Sono arrivati Oh santo cielo Andiamo Andiamo avanti Io non cago a nessuno Come ho già sempre detto Vado dritto dritto all'obiettivo Cos'è arrivato? Hanno portato una capsula Bot bellico È un boss La macchina dell'AM Arriverà nel giro di pochi minuti Oh no Allora facciamola fuori Ok Ok Cos'è? Guardalo È assurdo sto coso Ok mi sa che devo fargli fuori Tutti quei cosi attorno Va bene Non c'è problema Non c'è problema Non c'è problema Li faccio fuori a mano Li faccio fuori a mano No problem È tipo uno scarab Non so se li avete mai visti Ok devo fargli fuori Si si No problem No problem Lo faccio Lo faccio subito Bing bing boing Eeeh una fatta fuori Allora andiamo avanti Sulla prossima Si tutto morirà Tutto cadrà Ok Oi 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 Pong Bene Ok Ehi datemi una mano Si sta impennando Impennando? Oh 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 Bene Dai però lo stiamo facendo fuori Molto easy Dov'è l'occhio? È là Me lo miro tutto Sì Sì Facciamo di un male cane Sì Oh cacchio Adesso si fa come prima Adesso si fa come prima 100% Ok una boss fight Alla fine ripetitiva Nel senso che devo rifare Sempre le stesse cose Molto carino Cioè veramente il gioco È migliorato un botto In questo episodio Questo è l'episodio È il mio preferito Devo dirvi C'è un'azione sfrenata Pregevole Ok allora Colpisce un vito È di nuovo a terra Sì Colpite l'occhio Sì Vai Vai Spacca tutto Sì Bene Formicaio salvato Oh ragazzi Quanto però siamo Mi ha distrutto pure il boss incredibile Proprio zero Beccati questo I.M. Signore Rilevo grosse tracce di teletrasporto Gli alieni Accidenti Sì ma dai veramente No dai dai Non è possibile Dai Un altro no Un altro no Un altro no Un altro no Aspetta un'arma Non mi sembra pronto All'arma per impiccielirlo Rilassati un po' All'arma per impiccielirlo Che ridere Incredibile Che ridere Congratulazioni La resistenza Ha una nuova arma notevole Sono quasi carini Quando sono piccoli Vero Bene Bene Grazie ragazzi Vi devo un favore Però Secondo me è pericoloso Anche da così Quindi sei attento Che assurdo Gli alieni Pim Grazie per il vostro aiuto Farò portare le particelle Pim Che vi servono Alla chimera Grazie Wow So che non serve a niente Ma lo dico lo stesso Ragazzi Per oggi mi fermo qua Che roba assurda Adesso dobbiamo C'è assurdo Nel prossimo episodio Probabilmente andremo nello spazio E faremo cose Incredibili Non so cosa succederà Ma sono super curioso Adesso abbiamo praticamente Tutto necessario per andarci Quindi Gli Avengers nello spazio Cioè gli ultimi momenti Di questo gioco Secondo me Saranno super cinematici E pieni d'azione Quindi non perdeteveli Per il resto ragazzi Vi ringrazio per tutto supporto Link del negozio in descrizione E noi ci becchiamo Alla prossima Ciao Che vieni miei